una buona serata da marcus rieccoci allora avete visto che per bene la sesta volta il 90 è stato centrato a ruota nella classifica del 90 questo numero piace e non piace è odiato è amato ma le richieste sono tante quindi anche nel mio canale viene fatta luce su questo numero il 90 perché il 90 è un numero che è giocatissimo e quindi tanti di voi giocano il 90 avete visto che fino adesso il 90 è andato a finire sulle ruote indicate sia con l'ambata contata quel fenomenale metodo che prevede che l'ambata dove arrivi sulla ruota dove cade e poi rigiocata sulla ruota gemella sta dando veramente spettacolo perché questa ambata è un numero solo però avete visto che tanti di voi hanno collegato anche un numero e hanno fatto anche l'ambo 90 77 su roma non mio quel 77 ma a me fa piacere lo stesso l'importante che vinciate quindi non è non è non stiamo a vedere i numeri di come li mettete di chi sono a me fa piacere che vincete e quindi un numero solo arrivato su roma ma non è finita come vi dicevo ieri perché la previsione è apertissima ma perché vi dico questo perché adesso poi vi faccio vedere un'altra somma 90 e andrà a colpire Firenze e Torino Torino che è l'ambata contata poi va a finire proprio a Torino Cagliari è uscito Cagliari va a finire a Torino allora in complesso noi andiamo a giocare le ruote Firenze e Genova quelle con gli abbinamenti particolari su Genova con la settantina avete visto che ieri è uscito il 90 e 77 su roma con la settantina quelli dedicati a Genova 71 72 74 rimangono ancora aperti con il 90 a Genova mentre invece quella di Firenze è ancora con quella decina particolare non è uscita su Roma ma attenzione adesso Firenze non dimenticate la somma 90 43 47 proprio Firenze Genova e adesso andiamo nel dettaglio perché fino adesso come vi dicevo i 90 sono stati centrati a ruota adesso rimane Genova e Firenze perché Genova e Firenze perché la prima condizione di ambatta contata ve lo sto ripetendo alla nausea si è fatto vedere dove su Roma ma perché c'è questa condizione più le somme 90 vedete ci sono troppe condizioni che portano 90 secondo voi finita qui io non credo proprio perché vedete che il 90 dovrebbe risortire ancora su Firenze e Genova quindi la prima condizione di Napoli nell'ambatta contata sto parlando è quindi il 90 Firenze Roma Firenze rimbalza Roma noi abbiamo i 90 di Venezia che vanno a finire a Palermo rimbalzeranno a Genova quindi questo di Napoli è andato a rimbalzare a Roma il 90 di Venezia va a rimbalzare su Palermo per ben tre volte siamo andati a vedere un sacco di volte ve lo faccio rivedere ancora stasera e quindi ci sono tutte le possibilità che il 90 possa uscire a Genova e rispolveriamo sempre la questione Firenze Roma perché cerca la somma 43-47 tutto collegato la prima battacontata che va su Firenze e riflessa a Roma quinto colpo ieri è uscito il 90 Roma poi di nuovo attenzione il 90 che c'è a Napoli va a finire di nuovo Firenze Roma è uscito a Roma stessa frequenza non dimenticatelo che abbiamo visto insieme Firenze Roma adesso è uscito a Roma c'è di nuovo la condizione di Napoli e poi quella somma di Firenze e Genova ma ieri sera nel frattempo esce fuori un'altra somma 90 che va a finire sapete dove adesso ve lo faccio vedere allora questa l'altra somma 90 guardate Firenze e Torino è proprio quel Cagliari che è uscito prima del 90 di ieri sera su Roma va a finire su Torino quindi questa la consideriamo come la nuova classifica 90 ma se ci fate caso stanno rientrando tutti quei 90 che piano piano sono usciti in successione quindi avete visto che anche i numeri hanno un certo criterio di uscita quindi la massa numerica presenta una situazione di andamento particolare nel senso che quelli indietro stanno uscendo tutti adesso e quindi rimane adesso Firenze e Genova Cagliari va a finire proprio a Torino guardate un po' cosa c'è qua Firenze e Torino quindi un'altra somma 90 sì per Firenze ma anche per Torino che c'è il Cagliari che va a finire a Torino adesso ve lo faccio vedere quindi questa è una nuova classifica 90 ma noi giocheremo ovviamente la Firenze e Genova come abbinamenti poi ovviamente quella di Torino io la do infatto come posizione e poi si vedrà poi con che cosa voi l'abbinerete diciamo che questa è proprio la classifica integrale di quello che vi sto facendo vedere il succo del 90 che dovrebbe risortire su queste tre ruote finali quindi Firenze e Genova e si è aggiunta adesso Torino perché c'è la somma non solo del Firenze guardate che Firenze c'è Roma e Firenze che hanno la stessa frequenza quindi più condizioni ve l'ho sempre detto più pressione a questo 90 e vedrete che su Firenze dovrebbe risortire e anche poi a Genova Firenze e Torino 35-55 somma 90 questa è una nuova classifica attenzione se aggiunge Torino poi andremo a vedere Torino in dettaglio a noi ci interessa adesso Firenze e Genova perché Firenze e Genova sono ancora quelle ruote che stanno avendo un ciclo dopo quindi Roma quindi c'è stato poi quello che è uscito su Napoli poi piano piano su Palermo, Genova, sono andati avanti tutti questi 90 che abbiamo vinto c'è entrato a ruota e poi adesso Roma e adesso Firenze e Genova allora riprendiamo il discorso quindi Firenze-Genova 28 settembre più l'ambata contata di Napoli di nuovo Firenze-Roma di nuovo l'ambata contata Firenze-Roma questo rimbalza poi su Firenze attenzione più la somma 90 e poi guardate qua questi qua sono i 390 che poi andavano a finire a Palermo e Genova vedete poi c'è di nuovo un'altra somma a Firenze quindi le ruote sono quelle di lì non si scappa questa è la terza condizione come vi dicevo Palermo e Genova un po' come è successo adesso su Firenze e Roma tutte quelle condizioni di Napoli che andavano a finire Firenze e Roma alla fine è uscito su Roma di riflesso quindi tre volte a Palermo riflesso a Genova ma abbiamo detto più delle volte che Palermo è uscito a più di Genova quindi chi è che si aspetta adesso il 90 fra Palermo e Genova? Genova perché c'è anche Firenze che gli fa ponte con la somma 90 e allora adesso andiamo a vedere un attimino ancora cosa c'era eccolo qua quello che vi dicevo io guardate qui adesso vi faccio vedere allora è la condizione vedete questa è la condizione del 9 ottobre guardate qua Cagliari guardate un po' Torino Cagliari adesso Cagliari è già uscito cosa rimane? Torino Torino e guardate qua cosa succede ieri si riforma una condizione fra Firenze che ha atteso il 90 ma anche Torino quindi Genova, Firenze e Torino le ruote indicate per il 90 ma noi come vi ripeto abbinamenti per Genova e Firenze questa nuova è fresca di Torino e quindi Torino poi andiamo a vedere le posizioni che sono queste prima quarta e quinta posizione per Torino quindi se avete magari qualche numero da collegarvi col 90 di Torino queste sono anche le posizioni per un estratto determinato un estratto semplice che va di recuperare un po' quello che si spende nelle ambate normali come vi ripeto il 90 è un numero odiato e amato quindi sul mio canale vedrete sempre delle classifiche 90 perché piace tanto a tantissime persone mentre per quanto riguarda i Brontoloni Genova-Palermo ovviamente la previsione va avanti il secondo colpo di gioco domani sesto colpo di gioco per il 90 Firenze-Genova domani quindi abbiamo sei colpi per Firenze-Genova abbiamo un secondo colpo per la previsione Genova-Palermo data dai Brontoloni 78 34 43 Ambo Eterno e Ambetto questi sono i 90 che sono usciti poi andiamo a vedere l'altro 90 eccolo qua l'ultimo 90 di ieri Milano-Napoli e ancora una volta queste sono le posizioni di Milano-Napoli ma il Milano sta tardando troppo sta tardando troppo quindi cosa sceglierete voi di nuovo tra Milano e Napoli sicuramente sceglierete Napoli perché sta tardando veramente troppo in aiuto adesso vi faccio vedere l'8 più più perché l'ho aggiornato quindi andiamo a vedere un attimino Cagliari la situazione di Cagliari che è già uscito quindi a noi non ci interessa più ma adesso vi voglio far vedere una cosa quindi Torino c'è la somma Firenze Torino avete visto eccola qua ve la faccio rivedere ah no questa innanzitutto è quella che è uscita ieri al terzo colpo guardate Napoli cioè vedete come si collega tutto allora c'era quella condizione che vi dicevo 48 e 42 c'era Roma Napoli avete visto che è uscito poi su Roma poi guardate c'è l'ambata contata questa ambata contata vedete come si collega tutto quindi l'ambata contata questo qua di Roma di ieri va a finire Milano Napoli e quindi dov'è la somma anche qui del del 90 Napoli a Roma cioè avete visto è anche Napoli da quindi Napoli Roma le somme 90 è come se fosse come se tutte le strade portassero a Roma quindi questo 48 questo 48 e 42 fra Napoli e Roma ha dato 90 ieri a Roma ma c'è ancora Napoli e in più c'è l'ambata contata vedete vedete la classifica a 90 come va avanti Firenze Genova quindi Torino e Roma e Torino e Napoli scusate però adesso ci interessa Firenze Genova mi raccomando adesso questo è uno schema in più per farvi vedere il 90 dove potrebbe cadere come classifica integrale integrale attenzione sto parlando di tutte le ruote sto parlando delle quattro ruote le principali Firenze Genova quelle che stiamo aspettando e poi le ultime che sono aggiunte Torino e Napoli le somme lo confermano vi faccio rivedere un attimino questo di prima guardate qua ieri sera 35 55 somma 90 Firenze Torino viene prima Torino poi Napoli dove vedete bisogna seguirlo passo dopo passo il ciclo il ciclo numerico bisogna seguirlo passo dopo passo questa è un'altra somma 90 a proposito di Torino e Firenze le prossime ruote con il 90 quindi Firenze ce la tendiamo da tempo e quindi Genova e Firenze allora questa è la classifica del 90 ok quindi Firenze Genova poi c'è Torino ma andiamo nel dettaglio vi voglio far vedere una cosa dato che Cagliari è già uscita andiamo nelle 600 estrazioni ma vi faccio vedere una cosa veramente curiosa allora questa è la statistica del Torino Cagliari l'ha già dato attenzione io sto parlando adesso del nuovo 90 che potrebbe facciarsi su Torino come classifica integrale guardate qua nelle 600 estrazioni il Torino avete visto che ha meno frequenza di Cagliari infatti deve essere più Cagliari che Torino però adesso visto che è uscito Cagliari e stiamo avendo un livello di uscita interessante guardate se io metto le 1000 estrazioni cioè una cosa veramente grande quindi tanto tempo di estrazioni con il 90 su Torino guardate cosa succede 42 45 42 46 56 un massimo che c'è stato è un 66 allora che cosa succede succede che adesso Torino potrebbe averla meglio rispetto a Cagliari perché Cagliari ha già dato e quindi quel Cagliari va a finire a Torino ecco perché vi dico Torino le posizioni ovviamente prima, quarta e quinta questa è la classifica del Torino prima, quarta e quinta e poi la somma 90 fra Firenze e Torino non dimenticatevelo Firenze e Torino dalla somma 90 e il Torino sta arrivando a livelli guardate ottimali va bene poi invece il Napoli l'ultima condizione del Napoli tanto per farvi vedere guardate Milano di nuovo guardate è una cosa scandalosa allora il massimo che c'è stato nelle 1000 io sto dicendo 1000 estrazioni 87-88 guardate un po' è interessante vedere questo guardate un po' 115 estrazioni sta tardando ancora sta tardando ancora chissà quanto arriverà e invece Napoli guardate Napoli invece come si comporta Napoli guardate vedete ha sempre avuto dei lassi di 79-71 ritardi storici ma è sempre tornato su quei valori vedete ecco perché vi dicevo sempre Napoli e per due volte avete vinto Napoli guardate che l'8++ è troppo utile solo per questa cosa qua l'andamento dei numeri è troppo importante e l'ambata contata è quella chiave che avevo sempre detto che vi fa vedere l'ambate e poi ve l'andate a controllare con questo programmone va bene e poi gli abbinamenti ve li aggiungerete voi avete visto vincete di Iambic se non dei Terni addirittura quindi il numero chiave è sempre l'ambata poi ci pensate anche voi con i vostri abbinamenti ma però attenzione Genova con quei 71-72-74 e Firenze con quella decina che se non si è fatta vedere a Roma buon segno perché io infatti l'aspettavo a Firenze quindi tutto aperto vi ripeto la previsione è buona va avanti e quindi vediamo che cosa succederà ok? va bene? nient'altro da aggiungere poi tutto qui è il 47 scusate è il 78-43-34 su Genova-Palermo secondo colpo i Brontoloni domani sera io vi abbraccio noi ci risentiamo continuano ad arrivare i scontrini ragazzi vi chiedo scusa non sto riuscendo a vederli tutti perché avete visto che io non ho più tempo veramente per nulla non riesco più a vederli grazie veramente dove l'ho messo i scontrini che poi mi dite oh ma non è vero non ti arrivano aspettate se no qua mi dite di tutto poi ecco qua guardate addirittura arrivano saluti dall'Austria dalla Svizia perché giocano anche lì il gioco dell'otto quindi ce n'è ce n'è ce n'è stanno arrivando adesso ma io non posso vederli tutti ve l'ho detto non posso star lì a vedere è un numero solo avete questo 77-90 a me fa piacere che l'avete vinto anche su tutte e quindi benvenga ragazzi io sto continuando a scaricarli adesso ragazzi vi abbraccio io devo scappare mi raccomando di Brontoloni Genova-Valermo 78-34-43 e la previsione Firenze-Genova si è aggiunta anche Torino come e poi in successione poi Napoli comunque la classifica integrale è questa qui Firenze-Genova le principali e Roma-Torino le secondarie noi ci salutiamo riguardatevi il video per le posizioni del Torino e poi del Napoli chi volesse magari giocare su quelle ruote ok un abbraccio Marcus ciao 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 ciao